ma chi è? uuuuuh quella è lupo ma dov'è? c'è qui gente che vuole fare la barba l'ora del Piaccioli e poi della tenenza ma qui ha detto che ti sei fatta aiuto dagli altri dove? terza macchina è sempre lui come terza macchina? no lui è lupo ma che ingrassato ma ammazzate bene ma che cazzo lo vedete? ehi ehi cosa dica? e io non ho voi stava a volare se non puoi venire qua vieni 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 ... ... vieni 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti